Leonardo Bitetto, un nome, una garanzia. 62 anni, grande esperienza, normalità, pochi fronzoli, tanta saggezza. Sino a qualche mese fa Giulianova, dove era tornato a distanza di più di 10 anni, salvezza assimilabile ad un'impresa, storia dello scorso campionato di Serie D. Giulianova appunto qui nel 2009 è riuscito a centrare la promozione in prima divisione, l'attuale Serie C. In precedenza doppio salto dalla D alla C1 a Manfredonia e poi Melfi dalla seconda alla prima divisione nel 2014. Annereto sostituisce Senigallesi, un solo punto in quattro partite, per Bitetto l'ennesima sfida difficile e nel contempo stimolante, soprattutto idee già chiare. È vero, l'anno scorso l'ho fatto e devo dire che abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Ed è lo stesso risultato del quale cercheremo veramente di poter arrivare, perché quella della salvezza e uscire dalla parte bassa della classifica deve essere una nostra priorità. L'obiettivo di tutte le squadre e anche del Nereto è quello di poter arrivare con più uomini e il più velocemente possibile davanti alla porta avversaria. E domenica c'è subito un avversario dal grande blasone che ha avuto un avvio di campionato decisamente sofferto. Eh sì, perché sono partiti in ritardo, ma la squadra è di indubbia qualità. È un bel test, un bel test. Già da domenica, per quel po' di tempo che ho avuto e che avrò a disposizione fino a questa prima partita, cercherò di dare da subito una mia impronta, una mia idea di calcio e, come dicevo prima, un calcio più in verticale che di manovra e di possesso.